la luce della luna piena sembrava forzare l'entrata della caverna in un silenzio abbacinante che stordiva di contorni bianchi gli occhi ancora addormentati di zeta distesa sulla pietra fredda la donna contemplava i suoi pensieri come fugaci schizzi di luce e colori sullo sfondo nero del buio il pesante masso resisteva eppure fuori c'era il mondo con i suoi immensi spazi e con troppi perché accanto a zeta il capobranco odoroso di muschio e carne dormiva abbracciato alla pesante clava gli altri uomini e donne giacevano qua e là più lontano dall'entrata zeta pensò alla giornata trascorsa come sempre al vociare continuo delle donne al ripetitivo raschiare delle pietre sulle pelli alle bacche raccolte al ritorno del gruppo dei cacciatori questo era il suo ieri questo sarebbe stato anche il suo domani ma allora perché una strana tensione le impediva di abbandonarsi alla stanchezza perché quella notte doveva essere diversa forse era colpa della luna il disco della dea bianca lo invitava a pensare ma cosa voleva da lei la luna era forse invidiosa del suo ramo di magnolia il suo compagno glielo aveva donato e l'avrebbe portato sempre con sé ora tutti avrebbero riconosciuto in lei la donna più importante del branco la sacerdotessa il tramite tra la terra e il cielo era ciò che zeta desiderava più di tutto ma non capiva come tutto ciò poteva essere troppo grande era il mondo là fuori è troppo piccola lei 800 mila anni più in là nello spazio tempo su una piccola isola di fronte alle coste giapponesi il vecchio professore prometheus iaro scrutava il cielo col cannocchiale l'elicottero con i viveri ancora non si vedeva forse c'erano stati ritardi a causa dei controlli militari prometheus gettò via il cannocchiale e passeggiando nervosamente avanti e indietro prese dalla tasca un'ampolla di vetro con uno strano liquido esclamando maledetti neutrini se solo aveste più massa da circa cinque anni il famoso fisico militare abbandonati i contatti con il resto del mondo si dedicava alle sue ricerche solitarie aveva pianificato tutto con estremo rigore venduti tutti i suoi beni e comprato un isolotto dal governo giapponese vi aveva secretamente impiantato un super collisore di particelle l'unica persona al corrente dei suoi studi era il fedele maggiordomo tofu tanto silenzioso quanto zelante ogni settimana tofu arrivava con l'elicottero portando tutto il necessario per sfamare il padrone e assicurargli ogni tranquillità tofu ignorava completamente lo scopo delle ricerche di prometheus in realtà il professore aveva in mente un'idea grandiosa un viaggio nel tempo indietro di 800 mila anni fino alla preistoria voleva riportare un grande dono all'umanità le conoscenze moderne in epoca antica cosa sarebbe accaduto se la specie umana avesse avuto il doppio del tempo per progredire se qualcuno avesse accelerato il processo di conoscenza l'epoca contemporanea sarebbe stata sicuramente migliore così ragionava tra sé il buon prometheus z quel giorno era stanca e desiderava restare un po sola si allontanò delle altre donne con la scusa di cercare una selce si ritrovò in breve sulla scogliera ai suoi piedi l'enorme distesa azzurra mormorava come per rimproverarla si sedette su una piccola sporgenza rocciosa e socchiuse gli occhi ma li riaprì improvvisamente una luce bianca l'avvolse al bagliore improvviso di un'assaetta e poi il rumore sordo che l'accompagnò le compagne accorsero un piccolo fuoco scoppiettava là dove prima c'era z il ramo di magnolia dai bianchi fiori iniziava ad ardere le compagne lo presero lo portarono al capoblanco per annunciare la strana scomparsa ora il fuoco non faceva più paura era un dono di z la sacerdotessa della luce all'improvviso quel mattino qualcosa accadde in un attimo lo schermo del rivelatore impazzì l'anello d'accumulazione entrò in funzione da solo il motore del demagnetizzatore s'accese ora la capsula spazio temporale registrava un quantitativo di energia sufficiente per andare fino al paleolitico e tornare nello stesso giorno prometheus impostò i dati in fretta sarò di ritorno in tempo per capire si disse il tempo erise erise di cuore come da anni non faceva quando tofu lo ritrovò carbonizzato e felice lo schermo mostrava ancora la data e l'ora 6 agosto 1945 ore 8 e 15